Marco Avanino Anche da Marco Avanino il contributo video delle sue prime reazioni a caldo Vediamo un po', vediamo un po' Ognino stanno nei cassetti, stanno stretti, dietro al Bell Stays eravamo tutti molto agitati È normale, si inseriva sul palco di lì a poco Il verdetto finale non ha fatto sudare un sacco Eravamo in sete a passare, ho detto che c'era stato un execo L'ultimo due posti, primo nome, ok, l'ultimo non sarò io Lunga, lunga attesa, lunga attesa, ero io, mi sono squagliato Marco, in bocca al lupo Marco E questo era il video di Marco Avanino Dunque, Marco, 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 anche per te una domanda Una cosa che non ho mai chiesto, ma penso che sia anche questa abbastanza interessante Tu, che insomma vuoi cantare, sei un cantante, partecipi a questo festival Cosa vorresti che raggiungesse in questo momento quel tavolo Dove c'è schierata la giuria pronta a sentire la sua esibizione Cosa vorresti che arrivasse, soprattutto di te? Vorrei che arrivasse quello che con le parole e con la musica Sento dentro con quello che canto E quindi farlo arrivare a loro Far sentire le stesse sensazioni che sento io mentre canto E allora proviamoci Marco Avanino canta Raccontami Grazie 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 Grazie. Amore raccontami, amore racconta l'inverno che c'è. E tu, distante, sei così grande da farmi perdere. Perché sono qua a rincorrere le parole, ad inventare ancora scuse, accorcervi che è sempre impossibile. Non ho più domande, poi ora è tardi, ci sentiamo più avanti se vuoi, amore che lo so. Sembra impossibile. Marco Avelino. Grazie Marco, la prossima concorrente... Grazie. Grazie. Grazie.